Ciao a tutti ragazzi e ragazze, bentornati in questo nuovo video. Sono davvero felice che il video di ieri vi sia piaciuto, perché in tanti ci avete fatto un sacco di complimenti, ci avete addirittura detto che vi ero allegrato la giornata, che i nomi che abbiamo scelto, quindi Kate e Grace, sono bellissimi. Non vedete l'ora che nascano, quello anche noi, e stiamo davvero molto felici. Oggi infatti, dato che abbiamo visto che vi piace questo genere di video, vi portiamo con noi a fare un'ecografia alla vancia per vedere come stanno le signorine, dato che tra pochino, tra pochini mesi, dovrebbero nascere. Quindi noi già siamo pronti di vestiti, però io vorrei darmi un attimino una sistematina, quindi provvediamo. Ok, prendiamo il mio bel pennellino, secondo me è bellissimo, e prendiamo questo rosellino di qua, e lo vado a mettere sulla palpebra mobile. Dopodiché, prendo questa, e con questo pennellino, lo vado ad applicare sullo zigomo, creando anche a sua volta un peletto di contouring, non molto. E poi, per concludere, un po' di rossetto nude, così, tanto per dare un po' di colore alle labbra. Adesso, sono pronta, e possiamo andare! Ok ragazzi, abbiamo detto di indossare questa camicetta, che mi evidenzia ancora di più il pancione, che bello. E stiamo aspettando qua fuori che il signore delle ecografie ci chiami. Prego, venite pure. Salve. Prima di tutto, igienizzante. Ok, e adesso vi... Tu signorina, ti puoi accomodare sul lettino, tu puoi stare anche qui dove sei. Ok, perfetto. Tu qui, e adesso... Eccolo, quelli sono i bambini. Oddio, ma... Cioè... Sono scioccato, perché dall'ultima ecografia... Si vedono ancora meglio, cioè sembrano cresciuti, e non di poco. Sì, è vero, in effetti, mi ricordo l'ultima ecografia, e sono cresciuti abbastanza. Così come anche il suo pancione, signorina. Sì, eh... Tristemente posso dirle che è vero. Ok, adesso stampiamo l'ecografia. E... Potete andare. Il bambino... Cioè, le bambine. È tutto a posto. Battite regolare. Va tutto benissimo. Ok. Ok, quelle sono le... L'ecografia delle sue due piccoline. Oddio, ma sono bellissime. Guarda, amore. Sono... Stupende. Io non lo so. Ogni volta che vengo qui, rimango assolutamente senza parole. Poi appena torno a casa, mi vengono in mente tutte le cose che avrei potuto dire, ma che non riesco. È normale, amore. Anche io sono così. Cioè, in questo momento vorrei urlare, ma non so neanche cosa. Quindi... Vabbè, ragazzi. Quasi è totalmente normale. Tutte le coppie che vengono qui sono così. Adesso potete andare, perché ho dopo un turno. Ok, arrivederci. Grazie ancora. Vederci. Mi prendo il mio vestito. Ok. Adesso possiamo andare. Ok, ragazzi. Noi stiamo passando per la strada. Abbiamo visto questo negozietto. E siamo voluti entrare. Quindi adesso vediamo cosa... Salve, buongiorno. Buongiorno. Avete bisogno di aiuto? No, no. Diamo solamente un'occhiata. Poi se c'è qualcosa che ci interessa, la prendiamo. Ok, va bene. Io sono qui. Ok. Allora. Oddio, che carini queste cose. Oh, buongiorno. Buongiorno. Allora. Ieri è di prendere questo scatolo. Un attimino queste cose le metto un po' più in qui. Perché lo devo riempire. Amore, ma eravamo entrati per un'occhiata. Ti ricordi? Allora. Tutto compro. Questo l'orologio. Poi compro. Questo qui che l'avevo visto a casa della mia amica. Mi piaceva troppo. Poi questi candele da mettere nella stanza delle ragazze. Questa piantina, che secondo me è troppo carina. Adesso. Cos'altro posso comprare? Questa piantina. Troppo bellina. Io c'ho la visazione per le piante. Queste candele mi piacciono. Però mi sono tipo troppo... Che ne so, casa vampiro. Cioè, capito? Sì. In effetti, tutte le candele nere non sono molto belle. Ok. Allora, questo per la stanza delle bambine, barra ragazze, come le chiamo io. E poi volevo comprare anche questo, che è la cassetta delle poste, che così la cambiamo. Però è rosa, perché fra poco noi gioiremo delle nostre due piccoline gemelline. Quindi, rosa. E infine, questo diamantino molto carino. Carino. Poi magari qualche cuscino per la stanza. Allora, prendiamo questo e questo. Secondo me sono troppo bellini. Ok, perfetto. Salve, vorremmo pagare queste... Poche cose. Pochissime, eh. Noi eravamo intetti per dare un'occhiata. Dai, amore. Ok, allora. Questi sono vostri. Volevo portare. Poi faccio un pacchettino anche, così, se volete lo potete mettere qua dentro. E chiudete tutto. Ok, grazie mille. Di nulla. Ok, amore. Adesso possiamo andare. Dammi a me. Ok, grazie. Adesso possiamo andare a casa. A sistemare tutte queste belle cosi. Allora, queste le voglio appendere da qualche parte nella loro camera. Quindi per il momento le lasciamo qua. Adesso, questa piantina, esatto, la hai collocata pure al posto giusto perché la volevo mettere tipo qui. Non lo so. Cioè, so che è un pochettino in mezzo, ok? Però, secondo me è troppo bellina. Oddio. Questo invece lo volevo mettere nel salotto qui. Bellissimo. Amore, io pesco e poi... Ok, questo invece lo volevo mettere proprio qui. Stupendo. La cassetta... Beh, poi qui ci sono i cuscini. Allora, la cassetta delle lettere speriamo vada bene. Cioè, sia della grandezza giusta. Perché... Allora, noi avevamo queste, invece di queste mettiamo... Perfetta, ragazzi. Perfetta. Ok, quella l'ho buttata. Perché tanto non mi andavo a fare niente. Questi sono per la camera delle ragazze. Anche questo, ok? Questa piantina anche sono per loro. Queste anche. Questo! Questo lo volevo appendere io qui. Quindi, amore, mettimici un chiodo. Ok. Ecco fatto, ho messo un gancetto. Grazie, amore. Adesso riponiamo queste cose all'interno. Allora, nella stanza delle ragazzine, dove mettere tanti chiodini. Quindi, vieni. Ok. Allora, vieni. Dunque, dunque, dunque. L'orologio, dato che qui comunque le pareti sono quasi tutte parzialmente piene, lo vuoi mettere qui. Quindi, andiamo a mettere un chiodo lì. Ce la posso fare a dire chiodo. Ok, ragazzi. Già che c'era? Io mi ho fatti mettere due. Perché? Adesso vi spiego. Qui ci metto questo. E qui ci metto questo. Nel mezzo dei loro due lettucci. Così, poi, quando nasceranno e quando cresceranno, avranno la loro ecografia lì. Che probabilmente sarà l'ultima ecografia. Quindi è molto importante. Questi li mettiamo... Oddio, adesso io qui li devo combinare bene. Perfect. Perfect. Le candele, in realtà, ne volevo mettere tipo una per scrivania. Tipo magari una così. E una qui. Il fogliettino qui. E questo maialino. Aspettate. Questo maialino lo potrei mettere tipo qui dietro. Così. Molto carino. Tanto le nostre tende sono molto molto fine. Quindi anche se chiudiamo le tende, il maialino si vede lo stesso. Quindi, perfetto. Ok. Abbiamo sistemato la stanza. Sembra ancora più piena. Ancora più bella. E questo tocco qua dell'ecografia, secondo me, è pazzesco. Naturalmente, ragazzi, che ve lo chiedo a fare? Scrivetemi qua sotto nei commenti se vi piace questa idea. Cioè, se vi piace come sta avvenendo la stanza. Se vi piace questa idea qua dell'ecografia nel mezzo dei due letti. Se vi piace la casa. Se vorreste cambiare qualcosa. Ragazzi, scrivetemi. Tutto. Tutto. Tutto quello che pensate sulla storia. Che pensate sui nomi. Che pensate sui personaggi. Scrivetemi. Tutto. Adesso. Preparo qualcosa da mangiare. Perfetto, ragazzi. Ho fatto questi due tortilli ciascuri. Essendo che sono molto piccoli. Sono a base di pesce e verdurine varie. Tutte. E viene fuori questo bellissimo tortino. Che secondo me è un botto estetico. Anche così a vederlo. E poi è buonissimo da mangiare. Cioè, vi giuro, ragazzi. È troppo buono. E adesso, nada. Buon pranzo. Ok. Io ho finito. Era davvero buonissimo. L'osso. Cos'è che non è buono di tutte le cose che cucino io? Quello che faccio io è tutto buono. Dopo essermi mandata. Caffè. Ovviamente. Quindi facciamo un bel caffettino di qua. E un bel caffettino di qua. Perfetto. Poi, come sempre, zucchero a volontà. Perché, ragazzi, già la vita è quel che è. Se vi bevete pure il caffè amaro, proprio. Anche no. Per cui, zucchero a volontà. E beviamo. Ok, ragazzi. Perfetto. Detto questo, spero che questo video vi sia piaciuto. Lasciate un like. Iscrivetevi al canale. E commentate se questo video vi sia piaciuto. Commentate, appunto, già ve l'ho detto. Ditemi tutto di quel quanto riguarda la casa. Perché, essendo che è una storia nuova, io voglio sapere cosa ne pensate. E i commenti sono l'unico modo che abbiamo. Per dialogare. Quindi, bombardate questi video i commenti. Fatemi sapere tutti i vostri pensieri. Un bacione. E ciao. Vi voglio in mondo di bene.